di acquisire pagandole un centesimo o due centesimi le proprie latine. Il risultato è che uno dei primi stati dove è stata praticata è New York. Nello Stato di New York ci sono diecimila kenners, cioè persone che sopravvivono garantendo sul reddito tra, c'è una ricerca italiana finanziata dalla propria università, la trovate on-line kenners. qualcosa, che garantendo sul reddito tra i mille e i cinquantamila dollari l'anno. Il risultato è anche nella foto, ma anche il 2016 si è crescita un po' più alto, perché ho messo la mia richiesta nella biblioteca dell'Università 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 dell'Università. Grazie a tutti! Grazie a tutti!